Un ragazzo preso a calci dai carabinieri perché sorpreso a passeggiare nell'orario del coprifuoco è questo quello che appare in un video divenuto virale sui social e che ha fatto scattare un'indagine interna dei militari del comando provinciale di Napoli Il fatto è avvenuto a Terzigno nella tarda serata di ieri Nelle immagini anche insulti al ragazzo da un militare sceso dalla vettura Il comando ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire con il massimo rigore e convinta inflessibilità Comportamenti inconciliabili con i valori fondati dell'arma, si apprende